Nonostante il Consiglio Comunale abbia trattato esclusivamente di debiti fuori bilancio, frutto di sentenze passate, ingiudicato e di distrazioni degli uffici, abbiamo cercato come sempre di portare proposte concrete, tese a migliorare la qualità della vita di tutti noi. Così il capogruppo di opposizione del Comune di Castellabate, Alessandro Lo Schiavo, attraverso un'intervista telefonica rilasciata ai nostri microfoni. Uno degli ultimi consigli comunali dell'era Spinelli-Maiuri, che ancora una volta ci dimostra quell'incapacità politica e amministrativa, così confermata dall'approvazione di circa 12 debiti fuori bilancio per un importo di circa 80 mila euro, soldi che verranno spalmati sui prossimi bilanci comunali, tutto a discapito ovviamente di ogni cittadino, singola famiglia del Comune di Castellabate. Ma al netto di queste constatazioni che abbiamo più volte denunciato, registrato nel corso dei tanti consigli comunali di questo quinquennio che oramai volge al termine, noi con il nostro modus operandi abbiamo ancora una volta portato all'attenzione del Consiglio Comunale delle proposte concrete. Innanzitutto abbiamo chiesto un censimento concreto, reale della presenza di Ethernet lungo tutto il nostro territorio, sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che private. Abbiamo chiesto anche l'emanazione di apposite ordinanze sindacali per lo sgombro e il ritiro di questo materiale altamente inquinante. Abbiamo chiesto la modifica del regolamento comunale per l'indizione dei referendum comunali, così come richieste a gran voce da tantissimi cittadini e comitati civici per il problema CONSAC, per la permanenza di questa società che ha fatto tantissimi danni economici ad ogni singola famiglia, attività imprenditoriale del nostro territorio comunale e anche per restituire il question time, un momento di confronto franco, sereno e diretto tra consiglieri comunali e governo cittadino. Abbiamo chiesto un maggiore controllo e una messa in sicurezza reale della Polizia dei Valloni, mi riferisco non da ultimo, al vallone Catarozze, ogni anno viene pulita soltanto la parte terminale al ridosso della stazione di sollevamento e non viene tolta, eliminata quella folta vegetazione che ostruisce il naturale decorso delle acque piovane. Abbiamo chiesto a gran voce di utilizzare gli introiti della tassa di soggiorno in circa 270 mila Euro per far fronte alle necessità reali del nostro tessuto economico produttivo turistico che ha avuto tantissimi danni derivanti appunto da questa pandemia del coronavirus che allo stato attuale non ci ha mai abbandonato, soprattutto di fare una commissione che veda coinvolta anche la minoranza unitamente alla classe imprenditoriale e stabilire una linea univoca per spendere da subito queste ingenti somme che sono presenti nelle casse comunali. È stato doveroso da parte nostra salutare anche una funzionaria comunale che da qualche mese è andata in pensione, la dottoressa Angela Perna, che negli anni si è contraddistinta per la sua disponibilità nell'ambito della cultura, delle istruzioni, delle politiche sociali con quella chiusa dose di professionalità, ha sempre veramente dato un grosso aiuto alla macchina amministrativa del Comune di Castellabate. Da ultimo un saluto di buon lavoro al dottor Serafino Roncacè, neo amministratore unico della Castellabate Servizi e abbiamo ringraziato per il lavoro fin qui svolto il Presidente uscente Vincenzo Di Luccia e l'intero Consiglio di amministrazione.